Ciao a tutti amici, allora un video brevissimo. Innanzitutto voglio riagganciarmi al video dell'altro giorno in cui vi parlavo del fatto che in questo periodo di crisi sanitaria i testimoni di Geova stanno ricontattando addirittura i disassociati e i dissociati per provare a fare di nuovo proselitismo e riportarli dentro. Quindi ecco ne abbiamo già parlato l'altro giorno e vi volevo aggiornare ulteriormente sul fatto che ho ricevuto nel frattempo conferma ulteriore di queste cose di cui vi parlavo e di cui mi era stata già inviata notizia da altre persone che appunto a seguito della visione del video hanno ritenuto opportuno informarmi del fatto che questa cosa sta accadendo anche a loro. E parliamo ulteriormente di dissociati e disassociati in questo senso. Quindi ecco volevo darvi conferma ulteriore di quello che vi ho detto nel video precedente. Dopodiché volevo ringraziare quelle persone che in questi giorni oltre che inviare degli attestati di stima che fanno molto piacere ovviamente mi stanno comunicando che è grazie all'informazione capillare che si sta facendo a mezzo web compresa appunto questa informazione che sto facendo personalmente mi stanno comunicando che hanno deciso di interrompere i loro studi alcuni di loro addirittura ad un passo dal battesimo. Queste persone mi hanno ringraziato sentitamente e alcuni mi hanno detto dottoressa lei mi ha salvato io vi voglio dire no ragazzi non vi ho salvato io vi ha salvato il vostro spirito critico vi ha salvato la vostra curiosità vi ha salvato la vostra voglia di capire voglia di vedere cosa c'è dietro questo vi ha salvato. quindi vi siete salvati da soli vi ha salvato la vostra mente vi ha salvato il vostro cervello sempre in movimento vi ha salvato il vostro intuito che forse non era completamente addormentato per fortuna io vi voglio ringraziare degli attestati di stima nei miei confronti ma sono io che ringrazio voi perché mi date la possibilità di verificare sul campo quanto questa informazione che faccio da un po' di tempo a questa parte sia poi realmente efficace quindi grazie di tutto grazie di questo e vi auguro una buona vita ragazzi adesso che avete capito in quale situazione stavate rischiando di cacciarvi detto questo a tutti quanti voglio augurare un buon pomeriggio e una buona serata grazie a tutti grazie a tutti